Il giorno e la storia. Oggi è il 21 febbraio. 1965. New York. Assassinato Malcolm X. 1972. Richard Nixon visita la Repubblica Popolare Cinese. 1848. Pubblicato il Manifesto del Partito Comunista di Marx e Engels. Commenta il fatto del giorno Virman Cusenza, direttore del Messaggero. Il graffio di Gogol al potere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.